Presentazione dell'azienda russa APL, il cibo nutraceutico per una rigenerazione cellulare prodotto con Accumulit SA. Cos'è l'Accumulit SA? Si tratta di una tecnica innovativa e rivoluzionaria applicata nel settore del benessere psicofisico attraverso la quale si riesce a mantenere tutte le proprietà naturali benefiche di estratti naturali fino al momento del rilascio della sostanza nelle cellule del nostro organismo. La società APL Go LTD è un'azienda russa che ha costruito in Moldavia uno stabilimento che dal 2011 produce cibo naturale nutraceutico con ioni negativi per il benessere psicofisico, mediante l'acquisto di un brevetto da un team fra i migliori ricercatori esperti europei, preseduto dall'italiano professor Giovanni Gusto e che per oltre 25 anni hanno lavorato per sviluppare nuove tecnologie per la produzione di prodotti ad alta concentrazione e ad azione rapida a base di frutta, bacche e piante naturali. L'esclusiva formula con estratti naturali di frutta, bacche e frutti di bosco rende piacevole al gusto l'assorbimento in forma di dolci caramelle attivando un efficace effetto terapeutico per la salute e la longevità. La produzione dei prodotti APL ha superato numerosi test i quali sono stati brevettati ed approvati da esperti del mondo scientifico in Europa e negli Stati Uniti. La gamma di prodotti è costantemente aggiornata grazie all'impegno della società di trovare, testare e commercializzare i più interessanti sviluppi all'avanguardia provenienti dai 56 diversi paesi del mondo. Compito della società in continuo sviluppo è di sperimentare continuamente con i tipi e le forme di produzione offrendo nuove opportunità per la crescita e il miglioramento della qualità della vita. I confetti APL sono prodotti con il supporto di detta tecnologia innovativa che aumenta di 10 volte le proprietà terapeutiche dei singoli contenuti nutritivi ed aiuta ad ottenere un effetto rigenerante quasi immediato. I prodotti APL assolutamente naturali complessi di vitamine magro e micronutrienti sono ottenuti con una tecnologia speciale senza additivi sintetici coloranti o conservanti in forma di caramelle molto gustose lecca 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 che determinano nell'organismo un potente effetto rigenerante e non contencono stimolanti o altre sostanze nocive compresi i prodotti geneticamente modificati il che significa che non danno effetti collaterali. Per migliorare la salute psicofisica è necessario alcalinizzare l'ambiente interno e questo è l'effetto che i confetti accumulati APL go forniscono. L'innovativa tecnologia di accumulo di potere rende possibile la selezione di estratti naturali di piante e frutti garantendo loro un'alta concentrazione e la ritezione completa di tutte le proprietà benefiche. Accumulit S.A. è un nuovo metodo per l'uso di prodotti alimentari naturali che offre la comodità e la facilità di ricezione aumentando l'assorbimento dei componenti e consentendo loro di ottenere il massimo beneficio. Grazie all'innovativa tecnologia Accumulit S.A. di estrazione di componenti che vengono salvati nel loro stato naturale questo metodo contribuisce alla completa assimilazione di vitamine e sali minerali consentendo di migliorare la massima efficienza dell'organismo molto rapidamente rivitalizzante e anti aging. I confetti iniziano a lavorare già in bocca in conformità con il modo in cui la loro applicazione lecca lecca agiscono sotto la lingua fino a completa dissoluzione. Questo metodo di assunzione di prodotti terapeutici denominato in medicina sublinguale come viene usato ad esempio nelle cure omeopatiche offre il vantaggio nel rapido assorbimento di componenti attivi in vasi sanguigni penetrando direttamente per osmosi attraverso la mucosa epiteliale sotto la lingua. La ricezione istantanea determina straordinari risultati terapeutici come l'effetto analgesico, la riduzione del livello di zucchero nel sangue, l'eliminazione dei sintomi di allergia, irritabilità, ansia eccetera. Questo effetto si ottiene attirando ioni negativi alle membrane positivamente caricate delle cellule malate. Un vantaggio significativo dei prodotti creati con la tecnologia Cumulit è la loro completa sicurezza. Gli estratti di confetti e frutta non si accumulano nel corpo, non hanno effetti collaterali e non creano dipendenza. La tecnologia innovativa real rende i prodotti a PL molto efficaci, facili da usare, sicuri per l'organismo e incredibilmente gustosi. I vari metodi di estrazione all'avanguardia prodotti dalla società APL. Il primo è il metodo di estrazione dei componenti attivi delle erbe che viene effettuata con una scarica di una corrente ad alta frequenza che consente di isolare le nanoparticelle degli stessi senza cellulosa e sostanze che causano allergia. Metodo di incapsulamento. Durante l'estrazione queste particelle isolate e sviluppo tecnologico brevettato vengono avvolte letteralmente in modo tale da formare un nanocontenitore contenente un insieme di sostanze isolate. Metodo di consegna. Questo contenitore ha una carica negativa che intenzionalmente secondo le leggi della fisica e grazie alla tecnologia unica Accumulate SA viene attratta in cellule patologicamente alterate le cui membrane e strutture subcellulari sono caricate positivamente compresi i nuclei a causa della presenza di più radicali liberi ossidanti. I confetti a piele non sono integratori alimentari né una medicina e nemmeno un analogo di confetti omeopatici. Questo cibo nutraceutico con ione negativo è elaborato come sopradetto con una tecnologia innovativa con l'aggiunta di estratti fitoterapici che hanno un effetto preventivo sulla salute e sul benessere psicofisico. Lo zucchero contenuto in essi può essere tranquillamente assunto anche dai diabetici in quanto una pillola APL contiene solo mezzo grammo di zucchero vale a dire anche cinque pezzi al giorno che solo 2,5 grammi al tasso giornaliero di assunzione di zucchero 50 grammi raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanità VOMS. Senza zucchero la normale attività vitale del corpo è impossibile soddisfare il bisogno energetico umano dell'80% appartiene al glucosio che viene prodotto solo dal saccarosio sotto l'influenza del succo gastrico e degli enzimi digestivi. Il componente dolce delle caramelle è la melassa o altrimenti detto sciroppo di glucosio ottenuto dall'amido di mais ed è composto da glucosio fruttosio e malto destrine. Il glucosio e il fruttosio non sono solo fornitori di energia attraverso una lunga scissione ma anche una fonte di glicogeno ed altri nutrienti prodotto direttamente nel corpo. Il suo pregio risiede soprattutto nei minerali infatti un importante concentrato di potassio di calcio magnesio zinco fosforo rame in oltre 100 grammi di prodotto opportuno oltre apportano scusate oltre il 79 per cento della dose giornaliera raccomandata di ferro. È un alimento ricco di aminoacidi fra cui gli otto essenziali carboidrati possiede 290 calorie per ogni 100 grammi per cospico e anche il suo apporto vitaminico che contiene infatti le vitamine A, D, F, B2, B5, B6 e B7. Le modalità d'uso il prodotto è realizzato sotto forma di confetto caramelloso che viene immediatamente assorbito sotto la lingua grazie al vasto sistema capillare del corpo bypassando il tratto gastrointestinale e trasportato dal sangue a una velocità di 150 mm al secondo attraverso il corpo interagendo con le strutture danneggiate cellule e organi. Per questo motivo il coefficiente dei poteri terapeutici dei prodotti APL è adatto a tutte le età a partire dai neonati si dissolve in acqua e sotto la lingua. Tutti i 15 prodotti lavorano sinergicamente insieme attraverso il flusso sanguigno capillare nel ripristino e la purificazione di tutti gli organi e sistemi intracellulari. Combatte i parassiti, funghi e batteri. Una goccia di MLS contiene 45 erbe e può distruggere oltre 250 specie di batteri. È un rivitalizzante di tutte le funzioni del sistema corporeo. Le caramelle vitali APL ha fatto un passo avanti nel campo della nutrizione sana, rendendo i suoi prodotti pratici, veloci, deliziosi e soprattutto efficaci, assolutamente compatibili con tutti gli altri metodi. Adatto per l'uso dalla prima infanzia, si scioglie sotto la lingua, fino alla vecchiaia. Adatto a donne in gravidanza e in allattamento. Nessuna controindicazione, nessuna limitazione, nessun sovradosaggio. Una nutrizione completa per le cellule dell'organismo umano, amminoacidi, minerali, oligoelementi e vitamine. Nell'assunzione di questi profetti si consiglia di bere almeno un litro e mezzo, due litri di acqua al giorno, suddiviso nelle assunzioni. Bere 50-150 millilitri di acqua prima e dopo l'assunzione delle caramelle, secondo necessità, mettendo sotto la lingua al completo scioglimento delle caramelle. Bere acqua è fondamentale perché i prodotti sono naturali e ionizzati con polarità negativa. Le sostanze contenute entrando rapidamente nel flusso sanguigno si diffondono in tutto il corpo con il risultato di ottenere così un effetto quasi immediato.